Tre corse, tre competizioni, tre campestri aperti ad appassionati, curiosi, grandi e piccini. Torna la Winter Challenge, sfida invernale destinata ad accogliere oltre 600 atleti. Sabato 17 novembre, sabato 24 e sabato 1 dicembre. Si parte a Castiglione Olona. Si svolgerà innanzitutto nel centro sportivo di Via Siago, quello che una volta era la pista da speedway, che ora è un centro sportivo con delle giovanili del calcio. Si correranno due giri intorno ai pratoni che sono intorno a questo centro sportivo e al termine dei due giri i concorrenti entreranno e faranno quasi per intero il vecchio anello della pista da speedway per arrivare al traguardo per un totale di 5 chilometri. Sabato 14 novembre ci sposteremo a Besozzo. Una settimana dopo ci si sposta a Besozzo in una frazioncina che viene chiamata Cardana, da non confondere con Caldana. È una località abbastanza difficile da raggiungere, comunque la via è la via Marchirola e appunto è il cross dei Due Pini, un cross storico che risale le prime edizioni agli anni 80-90. Adesso poi abbiamo ripreso, dopo una breve pausa per permessi dei vari terreni eccetera eccetera, abbiamo ripreso dal 2009 con una certa continuità ed è un cross affascinante perché è in una zona molto bella dal punto di vista paesaggistico. E Dulcis in fondo, il primo dicembre, caro Luciano, a Brebbia. Sì, a Brebbia è la seconda edizione del Whirlpool Cross Country che si svolgerà a Brebbia nella zona del centro sportivo vicino al campo da calcio, alle piscine e al cimitero. È un percorso prevalentemente pianeggiante ricavato nei campi di grano turco appositamente spianati per l'occasione. Ecco.